Scena a greste del compianto maestro Edmondo Maneglia, olio su tela. Dimensioni 50 x 70 con cornici in legno dorato lavorato. Dipinto in grado di valorizzare qualsiasi tipo di ambiente donando classe e prestigio. Opera appartenente alla collezione Pericle de Revisis. Il quadro ha un valore di quota di euro 4.000 e viene venduto a euro 1.100.